su via sicurezza oggi è il 16 di agosto questa è una coltivazione di tabacco quella è la montagna di san brisco questo è un palo della luce e questo è il tombino che questa notte ruberanno già lo hanno scardinato vi facciamo vedere siamo a questa altezza vi facciamo vedere anche gli altri che sono stati scardinati tabacco montagna palo altro posto altro tombino da rubare eccolo qui tanto palo non si vede più il tifata altro tombino scardinato qui a terra è il ferro con il quale hanno tolto il tombino dalla sua sede di cavo cesso rotto altro cesso altro cesso cimitero tifata tombino sollevato da terra tabacco cimitero altro tombino fine del cimitero tabacco altro tombino rotto abbiamo notato anche l'assenza di segnaletica campagna del cimitero regnale altro tombino rotto altro tombino rotto cimitero campagna tentativo di rottura da quest'altra parte qui ci sono le pannocce palo tifata tombino rotto tifata pannocchie altro tombino rotto tifata pannocchie altro tombino pannocchie niente palo tombino rotto pannocchie niente palo tombino rotto palo tombino noi vi abbiamo avvisato ora vedete voi che cosa volete fare ciao 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 ciao